da un fiume in mezzo alla strada ma che sicuro si questo è da caricare immediatamente loro stanno guardando loro sono devastati dove? la facciamo un sartino si va a vedere vogliamo una macchina forse posso dire cittadini si si vai vai su il muro vai su il muro vai su il muro vai la macchina vai la macchina vai bene si si sembra che è un cavallo e ti la fai dalle patate grazie a questo potenziale anche l'accento siciliano guarda questo non è il modimento migliore per fottare perché è proprio la logistica di cantare oddio non so se mi ricordano lì ma lì ti sei sempre a scopare sei contentabile sei contentabile è costo lui dov'ha? andando di là va sul marciapiede ah per vedere basta si si lo deve fare fanno 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 come vecchini guarda curiosi vanno a vedere 7-8 metri d'acqua ma poi dai che lavori ma vuoi che tutta l'acqua va lì giù e poi si riempie dove va lui? dove va? frena 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 eh anche perché mi sei arrivato troppo veloce mi sei arrivato troppo sicuro si ma la pina di giù è stato in giù la pina di giù ecco lui va a verificare la bestemmia o uno ci deve andare alla cosa ti immagini che è bello arrivato come fa? è giù eh ho capito capirai si a piedi si perché c'è un risrivello di tre e mezzo no ma tre e mezzo boh mi fai soffreddo via qua dentro commento a caldo oh che mi schizzi l'acqua commento a caldo commento a caldo commento a caldo caldo può credo un po' guarda 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 la parte per me è la ciostra ci vuole se lanciava l'avventura si non ci vuole se lanciava l'avventura no 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 Grazie.